Questa è la notte di più per i giorni di sognare perché la scorsa di benessere e salute è fondamentale. Io ho realizzato un sogno benissimo, non sapendo che ho qualche tempo fa, non sperandoci, comunque ci stanno sognando, 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 e comunque la sognarci a prendere, basta pensarsi e sognare. Alessi! Un prezzo per un divorzio, un senso importante, io vengo qui come rappresentante della Roma Molle, come accade anche al giorno, quindi speriamo che queste magistrazioni servano per coinvolgere il più possibile i bambini a fare attività sportiva, toglierli davanti alla decisione, dai computer, e ci sono soli, ma può essere anche uno stimolo, uno sproga anche, c'è il presente di una certa diversità, non avete che sono i bambini che provano a fare attività sportiva, quindi è bene anche che tutti facciano sport, le attività, perché naturalmente sto bene, sto bene alla salute, sto bene anche da tutti. Arrivederci! Penso che una giornata come questa di sabato e domenica, c'è un po' tantissima per tutto il movimento sportivo, di quanto, appunto, coinvolgono sempre più persone e favoriscono, conoscono tante discipline che in tante occasioni hanno forse poco spazio. Lo sport, come è già stato detto in questa giornata, ha un valore aggiunto che è quello della salute, del benessere, quindi anche attraverso queste giornate che sono anche più felicità. Grazie a tutti. Quindi non c'è stata, però, appunto, ritengo fondamentali i dati di tutti i sport sportivi. Sì, è un po' più comodo. Anch'io, ma ringrazio tutti quanti per questo invito, per questo è il primo anno in cui faccio parte di questa squadra, e da Romano, se non è un po' come voi, deve essere anche visto un po' come testimoni di queste due giornate. Anch'io, come è stato invadito più volte in questa giornata, spero che questa è venuta per avvicinare molte gente, molti ragazzi, a diversi discipline, magari non trasporto la calcia, ma anche il bar, o tutto l'altro, ci hanno presenti. In più, poi, l'oggetto di questa occasione per guidare tutti i bambini da partire di domani sera, domani avendo un rinforzio ufficiale, all'attività, una scena rossa più grave, e aspettiamo, vi aspettiamo meno, e come tutti sapete abbiamo chiesto anche il livello del pubblico. Volevo soltanto evitare una cosa, io ho dato anche le possibilità, sono in profilo per la presenza, quindi cercare di avere questo rapporto ulteriore, di relazione con le persone che tratta di domani, siano numerose, portando anche i propri figli, per mettere le condizioni anche di cose, di capire quali sono le attività sportive importanti, che sono considerabili. Però volevo anche evitare un fatto che, questo momento è aperto anche per i ragazzi visiati, e soprattutto anche per quelli soldi, dove io sono segretario ufficiale della Sondazione Sordi, per un rapporto di integrazione che deve essere percorso, per dare questo contributo ulteriore a questi ragazzi, che rispetto ai ragazzi hanno finalmente ricevuto qualcosa di meno. Grazie.